Ci sono anche bimbi di appena 5 anni, nelle terribili immagini che la polizia postale si è trovata davanti durante la complessa e delicata attività che ha portato alla denuncia di 9 persone per i reati di divulgazione, cessione, detenzione di materiale pedopornografico e per istigazione a delinquere aggravata. L'indagine, che va anche oltre i confini della Toscana, è partita in seguito all'analisi di un soggetto perquisito per fatti analoghi su cui sono stati rinvenuti chat, immagini e video a carattere pedopornografico con il coinvolgimento anche di bambini in tenerissima età. Gli occhi degli agenti hanno scandagliato le maglie dei principali social network e dei servizi di messaggistica su tutti i Telegram, canale preferito perché più difficile da decrittare, e hanno identificato i soggetti che detenevano o scambiavano immagini e video pedopornografici. Il gruppo si è rivelato particolarmente avido di immagini anche cruente, con neonati, bambini e adolescenti, e disposto a pagare per procurarsele, ma soprattutto in costante crescita e molto abile nello scambiarsi consigli su come eludere le attività di controllo. Sequestrate decine di telefonini e computer. Le perquisizioni sono state eseguite in Toscana, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio e Sicilia. Il più anziano del gruppo ha compiuto da poco 55 anni, mentre il più giovane ne ha appena 19.